Quindi, tu fatti! Ad aprirlo per primo, è Tom! Ma dieghi! Sì, vada bene! Mmm, il solito preferito di sta cippa! Mi hai lavato la faccia, imbecille! Vediamo cosa c'è dentro! Cuppa-ciups! Ma si toglie la carta, è stupido! Fatti gli affari tuoi! Contento tu? Uno stickers! Che ama lo stickers, quella schifezza! E una... Bu... 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 Oh! Sì, ma non funziona nemmeno! Non ti offendere, ma è proprio una sorpresa schifosa! Amore, ma ti lamenti sempre, però! Ma può essere ancora più schifosa! Ragazzi, dimenticavo, in uno dei due c'erano dei soldini! Eh? Non è giusto! Soldi, soldi, soldi! Soldi per me!